Un passaggio molto importante perché sicuramente rappresenterà una sentenza storica, non soltanto per l'Abruzzo ma anche da un punto di vista giurisprudenziale. Ieri il Consiglio di Stato ha preso a sentenza decisione la causa che era stata intentata da Edison contro la provincia di Pescara, quale soggetto appunto che con un'ordinanza aveva individuato Edison come soggetto inquinatore delle due A e delle due B di Bussi e delle aree limitrofe. Questo era stato già oggetto di una sentenza in primo grado del TAR Abruzzo sezione di Pescara, sentenza tra l'altro importante a livello nazionale che aveva riconosciuto appunto Edison colpevole, non sospesa. Quella sentenza era stata impugnata al Consiglio di Stato. I tempi ci dicono che potranno essere di circa un mese per sapere definitivamente se l'ordinanza supererà il vaglio del Consiglio di Stato ma questo è un aspetto molto molto importante perché se sarà Edison a quel punto anche i 48 milioni di euro che sono stati stanziati con la legge sul terremoto dell'Aquila potranno essere utilizzate per altre zone del SIN che è molto vasto ma non per quelle aree perché in quel caso dovrà essere Edison quindi a procedere alla messa in sicurezza perché sono aree che non sono ancora in sicurezza ambientale e poi soprattutto alla bonifica. Se invece dovesse essere rilevato che non è Edison il soggetto inquinatore di quell'area a quel punto lo Stato avrà la possibilità di investire i 48 milioni di euro di quei fondi del terremoto in maniera libera sapendo appunto che c'è soltanto la mano pubblica.